E' tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo gruppo politico dal nome Circolò il Presidente, cui farà capo il Presidente Francesco Severino. Allora, quali sono gli obiettivi che intende seguire questo gruppo? Allora, prima di tutto questo gruppo, gruppo di amici, chiaramente, è nato per essere presenti sul territorio, dare un'impronta ben precisa poi anche il nome, il Presidente, per rendere omaggio ad una figura storica ed è una figura che ha fatto veramente e farà negli annali la storia della politica italiana e del Cavaliere Silvio Berlusconi, al quale noi siamo tutti quanti legati. Cosa preme evidenziare? Il Cavaliere Silvio Berlusconi ha lasciato tanti insegnamenti e vorremmo proseguire seguendo il suo dogma e quello che ha insegnato e ha dato all'Italia. Cercheremo di stare sul territorio battivagliese che purtroppo, ahimè, solamente un cieco non si accorge che siamo in una calma piatta. La seconda cittadina della provincia di Salerno per densità demografica che dovrebbe essere crocevia per il sud di Salerno è in uno stallo totale senza accusare nessuno per carità divina, però purtroppo all'evidenza non si può non vedere. Saremo presenti poi nei vari quartieri della città di Battivaglia suddividendole in macroarie e per ogni quartiere creeremo un responsabile che faccia da interfaccia con la politica evidenziando ovviamente i reali problemi che ci sono sul territorio ed oggi sono tantissimi, in questi giorni ascoltiamo di sovente problemi per la sicurezza problemi per l'ambiente, problemi per la logistica e un po' di tutto. Chiaramente questo poi farà parte di un programma elettorale che intenderemo poi avviare. Per coloro che si vogliono iscrivere all'associazione come e dove devono farlo? Chiaramente l'associazione è aperta a tutti, veramente quando dico a tutti in tutti i sensi da domani uscirà la pagina Facebook, usciranno tutti i canali virtuali daremo un'indirizzo email istituzionale e i numeri di telefono per poter aderire e sottoscrivere la tessera una piccola precisazione, questo è un orgoglio, la tessera numero uno sarà recapitata alla famiglia Berlusconi